buonasera a tutti ciao ragazzi ciao ciao a tutti e la prima cosa che vi vogliamo dire questa sera è sigla stiamo ascoltando dell'ottima opera classica perché nella mia macchina si ascoltano solo cose assolutamente inconcepibili e volevamo dirvi volevamo fare questo vlog di questo mese come tutti i mesi giusto per fare un po' un riassunto di tutto quello che stiamo facendo e che faremo questo mese ho dovuto rompere il cazzo parecchio per fare questo vlog perché purtroppo siamo sempre molto impegnati molto impegnati molto pochi stiamo lavorando un sacco stiamo vedendo un sacco di ragazzi nuovi di gente nuova questo è importante abbiamo appena lavorato su un pezzo eccezionale questa settimana un pezzo jazz molto jazz il primo nostro esperimento jazz che uscirà nel 2055 no beh dai prima non sappiamo ancora la data ma uscirà ma uscirà un po' prima poi questa settimana abbiamo anche fatto delle bellissime foto con la nostra bridge e chissà chissà cosa uscirà nel futuro seguite tutti i canali e lo scoprirete non solo ma poi abbiamo fatto un bel video insieme a crypto che presenta il suo pezzo che uscirà adesso venerdì esatto il 12 il 12 il 12 il 12 il 18 aspetta oggi che giorno è oggi il 42 il 42 è il senso della vita allora no è importante anche dire che oggi è l'11 quindi domani era 44 no 44 gatti si infila a preseguire sui il 42 è il senso della vita esatto il 77 le gambe delle donne giusto per ricordarlo e 7 è solo il 7 una gamba sola il 7 non è niente vabbè ma chi se ne frega il concetto è che crypto domani esce col suo pezzo e quindi noi nei prossimi giorni purtroppo anche su quello siamo rimasti un po' indietro già riusciremo a fare questo benedetto video abbiamo avuto anche dei problemi tecnici tecnici fisici tecnicissimi non riusciamo a passarci file è stato terribile che nonostante sappiamo usare il computer ogni tanto ci si incrippa lo stesso ci si incripta ci si incripta e quindi crypto in questo video appunto intervistato dalla nostra Valentina sarà un bel video non perdetevelo parlerà del suo pezzo che è tra l'altro un estratto del suo EP che uscirà sempre con noi nella nostra label più avanti forse fra un mese o due adesso vedremo si sarà un pezzo molto violento quindi abbiamo deciso molto 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 di farglielo spiegare perché perché è importante ha delle ragioni molto importanti sotto e quindi è giusto che che si esprima e che si capisca anche il perché quello che c'è dietro l'artista quindi uscirà la prima sessione di 4 chiacchiere con l'artista in questo caso crypto e niente speriamo che vi possa piacere soprattutto per i tempi che stiamo vivendo è importante che si possa esprimere bene questo artista che ha questo progetto molto violento comunque lo dobbiamo dire lo dobbiamo dire e in più uscirà non mi ricordo il 17 la settimana dopo il giovedì il giovedì dopo quasi l'ultima settimana del mese esattamente a cavallo dopo Pasqua subito dopo Pasqua il pezzo di Armless esatto che anche lui ha fatto un singolo con noi anche questo dovrebbe essere diciamo un assaggio di quello che sarà il suo album che anche in questo caso uscirà poi con noi nella labor più avanti che sarà un pezzo un lounge direi molto lounge molto interessante da ascoltare anche questo noise lounge sì è particolare c'è una ricerca di suoni è bello spero che vogliate ascoltare anche questo e basta a parte questo vogliamo ricordarvi di seguirci su tutti i canali assolutamente iscriversi al canale youtube cliccare sulla campanella aspetta che basso la cantante grazie che qua stanno iniziando a volare che è bellissimo però non sento più niente iscriversi e cliccare sulla campanella per non perdervi nessuno al nostro aggiornamento e soprattutto ricordatevi che stiamo per aprire il crowdfunding della associazione di Donatico Project che servirà per supportarci il nostro progetto soprattutto supportare la label a livello a livello economico proprio fisicamente potrete fare delle donazioni e quindi questo ci aiuterà in tutti i progetti che stiamo facendo aiuterà i nostri ragazzi e aiuterà noi a portare avanti questo questo sogno detto questo seguiteci anche sul podcast se vi va è sempre attivo su sound per 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 clic come si chiama il il podcast ah si spreaker 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 abbiamo talmente tante piattaforme che non ci stiamo più dietro non ci stiamo capendo più in casa e quindi va bene grazie mille ragazzi ci vediamo presto ciao 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 ciao